Carmela Romano, membro del Comitato Nazionale di Servizio, viene presentato questo documento, un documento preparatorio. Mi ami tu, sul tema della conferenza. Qualche anticipazione? Sì, una piccola anticipazione è che questo documento è fondamentale, è fondamentale come il Vangelo per noi. Un po' per il tempo che stiamo vivendo e un po' perché alla base di questo documento c'è una riflessione molto seria sull'essere nella dinamica proprio della chiamata che sottointende questa domanda cruciale, mi ami tu, che Gesù pone a Pietro e oggi la pone a ciascuno di noi. Quindi da qui ripartiamo e ripartiamo da una base spirituale, carismatica e pastorale perché davvero oggi più che mai questo nostro tempo, le nostre comunità, i nostri cenacoli, i nostri gruppi hanno bisogno di riscoprire la potenza di questa chiamata, la potenza di questa domanda che dentro di sé contiene la possibilità di rivivere il battesimo nello spirito. Allora, ai presenti che sono qua al Palacongresso e tutti coloro che ci seguono anche attraverso i social diamo un messaggio di incoraggiamento. Per il futuro verrà un messaggio di speranza. Che tutti siamo arruolati. Nessuno si dica che è scaduto, che è in scadenza, ma ciascuno secondo il dono che ha ricevuto deve rispondere con generosità alla chiamata perché c'è un regno da costruire.